Buongiorno, il tifosi dell'Inter. Oggi faccio io di DJ, della decima canzone alla sexta. Come si chiama questa canzione? Mi ha voglia di arrepare. Andrea Bocelli. Bravo, ma quale? Nella finale Champions League, che ha cantato lui nel 2009, in Roma. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti, Giovanni. Facciamo die volte qui. Dalla canzone, dalla sexta alla decima. Dalla decima alla sexta, Silvi! Parla il nome della canzone tutto, no? Ok, perché la canzone, la prima canzone è antiga, antiva. Occhio eh, occhio eh!